Buongiorno ragazzi, buongiornissimo, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video dopo il grande successo della puntata di ieri delle curiosità sul mondo del calcio ovvero il video di ieri parlava appunto della partita tra Cardi e Fenio Castoli di come può passare alla storia ecco un'altra puntata su una curiosità del mondo del calcio mi raccomando dopo il video lasciate tanti mi piace se ne volete ancora questa curiosità che alla fine non è neanche tanto una curiosità però secondo me si riguarda le fasce omologate che da quest'anno la Lega Serie A ha imposto infatti i giocatori non possono più improvvisare e portare la propria personale fascia da capitano al braccio ma devono portare una stessa fascia uguale per tutti questo è quanto ha imposto la Lega Serie A ispirandosi ovviamente alla Premier League tanto noi siamo buoni ovviamente a prendere le regole sbagliate dalla Premier League e a non prendere quelle buone e che cosa è successo? ieri Daniele De Rossi durante la partita tra Torino e Roma si è presentato con una fascia russa e quindi non rispettando la fascia omologata imposta dalla Lega Serie A attenzione perché questa svista non è passata inosservata alla Lega adesso c'è da comprendere appunto se fosse una svista oppure una ribellione contro la Lega e quindi questa svista non è passata inosservata alla Lega Serie A che starebbe addirittura pensando di mandare una multa a casa di De Rossi qui si sta veramente deteriorando perché cioè un capitano non può essere libero di portare la fascia che lo riconosce una fascia indedica a qualcuno per esempio anche il Papu Gomez con un post Instagram si è ribellato alla decisione della Lega infatti ha detto che due anni fa aveva cominciato questo progetto aveva cominciato con questa bellissima idea di disegnare tutte le fasce da capitano per ogni partita in cui il Papu Gomez è capitano dell'Atalanta ovviamente e una magari era indedica per la storia e una era per la partita con la Roma quindi c'aveva gli stemmi delle due partite con un simbolo di Roma insomma è un bel progetto quello del Papu Gomez e quindi che cosa è successo anche post Instagram durissimo di Papu Gomez verso questa decisione della Lega Serie A e si ritiene molto dispiaciuto poi ancora Papu Gomez deve scendere in campo stasera in Atalanta frosinone quindi non sappiamo se si ribellerà oppure no con la fascia insomma comunque addirittura mandare una multa per non portare la fascia da capitano mi pare veramente ridicolo ma come si fa poi ad impedire a un giocatore di portare una propria fascia mi pare proprio assurdo infatti il Papu Gomez in questo posto che condivido moltissimo ritiene anche che i giocatori contano molto meno ma conta uniformare il tutto secondo me non ci siamo e si sta andando proprio a deteriorare e per una fascia da capitano mandi una multa ma per piacere dai ma per piacere ma come si fa cerchiamo di arrivare a 10 mi piace qua sotto se volete un altro video sulle curiosità del mondo del calcio un video che cercherò di portare insomma tutti i giorni una serie che ieri è andata a buon fine speriamo che continui a buon fine lasciate anche un commento qua sotto per sapere la vostra opinione su questa ridicoleria a mio avviso della Lega condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto dai ragazzi dai 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 se arriva a 50 iscritti che siamo a 46 andiamo ragazzi il primo obiettivo del mio canale e noi raga ci vediamo al prossimo video arrivederci simissimo ciao ciao